Tante bandiere blu, abbiamo dei numeri molto importanti, praticamente quasi due terzi dei comuni della costa abruzzese hanno la bandiera blu per un sviluppo lineare di circa il 70% della fascia costiera abruzzese e un rapporto tra lunghezza delle nostre coste e numero di bandiere blu che è il più alto in assoluto in Italia, una bandiera blu ogni 10 km di costa. Questo significa che l'Abruzzo sulla strada non è soltanto sulla strada della sostenibilità, della compatibilità ambientale, della qualità del turismo e delle acque ma è addirittura all'avanguardia in Italia, questo è un risultato molto importante e sono felice che le amministrazioni comunali continuino a lavorare e a collaborare con la regione per creare le condizioni. Anche quest'anno il trend è positivo, è stato positivo anche per l'Abruzzo con un nuovo ingresso, 14 località sono un buon punto su cui lavorare, il trend come dicevo è positivo ma la cosa importante è che anche per il 2022 i comuni a crescere sono soprattutto quelli del centro-sud del paese. Un riconoscimento importante per piccoli centri della nostra regione e poi c'è la riconferma di Pescara che è una città più grande. Sì, una riconferma di Pescara che sicuramente si è molto impegnata nel percorso di sostenibilità del programma Bandiera Blu, è il secondo anno quindi si sta consolidando su un percorso ma soprattutto ha ben compreso la filosofia del miglioramento continuo che fa parte del programma e quindi ogni anno ne chiediamo di migliorare le proprie performance e Pescara lo sta facendo molto bene. Pranca Villa si conferma, è stato un grande traguardo anche quest'anno, abbiamo avuto la riconferma e quindi è il risultato di un grande lavoro che viene fatto annualmente, dobbiamo sempre migliorare, Bandiera Blu non è solo qualità delle acque ma anche qualità dei servizi che vengono offerti quindi andiamo nella direzione giusta. È un momento importante, è un momento di riconoscimento non solo per le istituzioni ma soprattutto per i territori, i territori che hanno creduto e continuano a credere in questo importante riconoscimento per un territorio che è la Bandiera Blu, che non solo vuole essere uno strumento importante dal punto di vista turistico ma anche uno strumento che consente ai territori di migliorarsi perché sappiamo che ogni anno per confermare la Bandiera Blu o per ottenerla per chi non l'aveva prima bisogna raggiungere determinati parametri di qualità dal punto di vista delle acque, dal punto di vista dei servizi e dell'ambiente e per molti altri servizi che via via di anno in anno si aggiungono quindi in qualche modo accresciamo anche la qualità della vita sui territori quindi auguri a tutti i comuni e che sia come dire di buon auspicio per una stagione che promette bene.